...vicinanza e il loro supporto al nuovo istituto comprensivo. Io lascerei la parola al sindaco che ci ospita oggi, Luigi Gavassi. In realtà oggi i veri protagonisti sono la Proloco di Grosio e la PT di Sontaro. Oggi questi signori ci consegneranno l'associazione di semenza. Pardon, ho fatto una gaffa gravissima. Era perché in realtà ho questo grande auspicio della misione. Perché lui c'ha il pallino. Questi signori hanno organizzato una bella manifestazione che sono le strade di Gerardo insieme. Sono una aeree di semenza di soldo e due comuni. Si sono unite, hanno fatto questa bella manifestazione, hanno roccato dei fondi e oggi li consegnano alla vostra dirigente.